In questo trentennale della Festa della Vita ideato dal nostro amico Ennio Trovandi ho il piacere di averlo qui vicino a me, buonasera Ennio. Buonasera a tutti, a te e a tutti i vostri telescoltatori. Che cosa vogliamo dire di questa trentesima edizione? Beh, il trent'anni di Festa della Vita vuol dire per trent'anni aver organizzato questo evento, è cambiato tutto, sono cambiati in questi trent'anni governi, papi, presidenti, persone. Però io sono sempre qua per far sentire a tutti e far comprendere a tutti che, come diceva il mio babbo, Ennio, dietro un caro funebre, non ho mai visto la parola scritta trasloco. E quindi bisogna vivere la vita giorno per giorno. Assolutamente sì, allora noi ti auguriamo altri cento anni di Festa della Vita. Beh, insomma, detto della Carotti che è un'icona della Roma notturna, quella vera. E quindi grazie tanti, grazie a tutti voi e ricordatevi sempre viva la vita alla grande e viva la vita tutta la vita. Grazie, dalla Festa della Vita non è ancora tutto, quindi rimanete con noi, WebTV Studios, mi raccomando, seguiteci sempre sui nostri social. A dopo! Ciao! 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 Una serata importante, una nuova. edizione della Festa della Vita di Ennio Trovandi e voi lo sapete, io devo sempre braccare tutti gli ospiti VIP di questa splendida serata e questa sera udite udite un trionfo di bellezza e ho il piacere di avere qui alla mia destra Monique Russo. Buonasera a tutti! Allora Monique, io so che questa sera sei in trasferta perché come abbiamo sentito tu non sei di Roma, sei venuta appositamente per festeggiare la Festa della Vita di Ennio Trovandi, ma vogliamo dire qualcosa di te? Allora, io sono Monique, ho 31 anni, io sono modella, fotomodella, amo recitare, amo ballare, amo anche mangiare. Diciamolo! Diciamolo! Amo Roma perché la trovo una splendida città, Genova è un po' distrutta ultimamente però ci rimetteremo in sesto. Forza ragazzi! Assolutamente ci vogliamo assolutamente accomunare a questo splendido messaggio, ma vogliamo mandare un messaggio ad Ennio per questa splendida festa? Certo, volevamo ringraziare Ennio, sono felice di averlo conosciuto e volevo ringraziarlo per questa meravigliosa serata che passeremo in sua compagnia e per questa festa con tanta gente carica. Forza ragazzi, un abbraccio! E allora, qui non è ancora tutto, Web TV Studios mi raccomando seguiteci sempre sui nostri social da me e da Monique, è quasi tutto ma voi restate con noi! E allora, qui non è ancora tutto, Web TV Studios mi raccomando seguiteci sempre sui nostri social da me e da Monique, è quasi tutto ma voi restate con noi! E allora, qui non è ancora tutto, Web TV Studios mi raccomando seguiteci sempre sui nostri social da me e da Monique, è quasi tutto ma voi restate con noi! E allora, qui non è ancora tutto, Web TV�도 di bento crearei noi, guardate Oh 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 UGN Oh 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 UGN Ho oh oh UGN 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 Sì La cultura, la cultura, la cultura, la cultura, innamorata Si va di ieri, mamma che non c'era, e le fonti che non ti nascerà Si va di ieri, mamma che non c'era, e le fonti che non ti nascerà E le fonti che non ti nascerà E le fonti che non ti nascerà